Per la quarta volta la carovana antimafia promossa da Libera Proda Macerata. Quest'anno accanto all'associazione fondata da Don Ciotti ci saranno le tre sigle sindacali CGL Cisle Will, protagonisti di un'attenzione al territorio che vuole essere scudo contro tutti i tipi di aggressione mafiosa, che contrariamente a quanto si pensa non è un fenomeno riguardante solo il sud Italia. La riproduzione sul territorio di Macerata di quello che è un tessuto sociale, che a livello nazionale ovviamente ha meno presa, perché presidiare il territorio vuol dire fare un lavoro di tessitura, che è proprio il principio base della non violenza. Per cui ecco l'assessorato alla non violenza attraverso il presidio territoriale che l'Arci libera e le tre sigle sindacali che mi sembrano fondamentali per presidiare un territorio che, come si sa, in tempi di crisi lavorativa, economico-finanziaria, rischia di essere aggredito dalla trauma della criminalità. Venerdì 4 marzo l'appuntamento alla biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata con il convegno Le Sentinelle della Legalità, al quale parteciperanno Roberto Longu, maresciallo nella squadra del Capitano Ultimo, e padre Robo, padre spirituale della Casa Famiglia per Minori, Capitano Ultimo di Roma. Quindi contrasto alle mafie attraverso le forze dell'ordine, educazione alle legalità dal basso e noi che siamo sentinelle che promuoviamo questo convegno nel territorio.